GF VIP 7, le reazioni di Antonella Fiordelisi e di i persiani dopo la vittoria di Nikita Pelizzon, video. La vittoria di Nikita Pelizzon al GF VIP 7 è stata celebrata sui sociali in studio con grande gioia da Antonella Fiordelisi. Grande amica della modella, e da tutti i persiani che non hanno mancato di mostrare pubblicamente la loro gioia per la vittoria dell'amica. La prima a condividere la sua felicità per la vittoria di Nikita è stata Antonella. La quale attraverso il suo profilo Instagram ha prima invitato le sue fan e le donnalisi a rimanere compatte e a votare per Nikita. E dopo la vittoria di Nikita la Fiordelisi si è mostrata emozionata. Anche Matteo Diamante ha commentato la vittoria di Nikita, riprendendosi mentre veniva annunciata la vittoria di Nikita e commentando, un beso carino, ciao! Godo! Non è mancato poi il commento di Davide Donadei, la storia insegna che alla fine vinse Persia e chi siamo noi per cambiare la storia. Da casa sua, anche Martina Nasoni ha esultato per la vittoria della Pelizzon. Sono arrivate poi anche le congratulazioni di Ginevra Lamborghini. Sara Altobello, invece, ha ripreso il momento dell'annuncio della vincitrice direttamente dallo studio con in sottofondo le sue urla di gioia. Infine, Marco Bellavia, ha commentato sui social la vittoria della Pelizzon, dichiarandosi felice per quanto accaduto. Ma anche triste per non aver potuto assistere alla finale dallo studio. Ecco il video con le reazioni dei persiani. Grazie per la visione!